Il secondo anno, però questa è tutta un'iniziativa a livello nazionale, che è la sesta giornata delle biblioteche, che significa festa. Ecco, voglio chiarire che l'etimologia della parola significa orgoglio e noi siamo orgogliosi di avere una biblioteca così bella e la vogliamo fare conoscere agli altri. Quindi abbiamo aderito a questa iniziativa nazionale con la nostra biblioteca e con una serie di attività, tra cui le visite presso la nostra biblioteca e anche al Museo archeologico, che è la Casa del Libro Antico, dove abbiamo racchiuso la nostra, diciamo, perla, il nostro gioiello, la Casa del Libro Antico, perché racchiude i postillati di Campanella e alle Cinquecentine e tanti altri libri che nella guida conoscerete. Inoltre, una cosa importante quest'anno è l'iniziativa che la nostra biblioteca è aperta, infatti lo slogan dice la biblioteca portata di mano, che nessuno è escluso, è aperta a tutti, indistintamente, però infatti il volantino, se ve lo riprendete, ci sono varie mani di tanti colori, di tante cose belle, eccetera, eccetera. Su questo finiremo la serata con le nostre volontarie del servizio civile, che diciamo parleranno, converseranno con Antonio Soffioti, che credo che conoscete tutti, sul suo libro e da lì ne uscirà, speriamo, un bel dibattito. Allora, siccome parlavate di 3.000 tessere, c'è un modo ovviamente per iscriversi alla biblioteca, come fare? Allora, per iscriversi alla biblioteca è semplicissimo, bisogna venire in questo stupendo palazzo, che è Palazzo Unicotera, ci sono due piani, la biblioteca è costituita da due piani e da due pronto office, sotto primo piano ci sono le operatrici che accogliono le persone anche sopra, al secondo piano, basta chiedere alle operatrici, faranno la tessera, che anche, oltre che nominative, anche numerative, eccetera, dopodiché l'utente può accedere ai nostri servizi, che sono tanti, dal prestito, dal prestito interbibliotecario, dalla ricerca bibliografica, e una cosa importante è il prestito interbibliotecario, cioè nel senso che se noi non abbiamo un libro, lo possiamo richiedere alle nostre biblioteche del polo, ma anche fuori, lo spediscono, lo diamo al giovane, ce lo riporta e lo rispediamo, quindi questo è un aiuto a chi deve fare le tesi, perché noi, molte volte, molti libri non sono presenti in biblioteca, perché devo dire la verità, la biblioteca, che per essere efficiente, ogni anno dovrebbe avere del materiale bibliografico, bisogna comprarlo, e qui sono le adolenti note. Posso fare un'altra domanda a questo punto, potrebbe essere, diciamo, utile chiedere alle case editrici di donarvi dei libri, o comunque anche a delle persone comuni, che magari hanno dei libri in casa, non li usano e li vogliono donare? Certo, per la prima volta è stato istituito il registro delle donazioni in biblioteca, infatti abbiamo un registrone e sono tre anni che la gente ci dà dei libri buoni, delle donazioni che noi cataloghiamo, ingressiamo, e sono presenti sull'Opoc regionale, quindi chi dà una donazione di un certo valore, naturalmente, e di libri che si leggono o meno, non li accettiamo, e li cataloghiamo e li mettiamo sull'Opoc regionale, quindi sono al servizio di tutti. Grazie. Grazie. Grazie.